Trovato in stato confusionale, seduto su una panchina a San Donà di Piave, Venezia, Antonio Zangaro, 30 anni, coriglianese. Di lui si erano perse le tracce dall'agosto scorso e dopo una duplice denuncia, dapprima alla polizia tedesca e successivamente al reparto operativo dei carabinieri di Corigliano Rossano, da parte dei genitori, si erano attivate le procedure internazionali di ricerca che hanno prodotto i frutti sperati. Antonio è stato trovato in questa località in condizioni un po' brutte, ma sta bene ed è vivo. Sicuramente è molto provato, forse avrà vissuto per strada, non lo sappiamo, sono notizie frammentarie ancora quelle che abbiamo. Sicuramente i medici e i carabinieri di San Donà di Piave hanno riferito ai familiari che è in condizioni molto provato. Nelle ultime ore la straordinaria notizia, dopo il tormento vissuto dai genitori i quali avevano lanciato un appello anche tramite il nostro network affinché il giovane rientrasse. I familiari sono partiti alla volta di San Donà del Piave e non vedono l'ora di riebracciare il loro caro dopo mesi di dura trepidazione. Importante, si è rivelato il contributo dei media, è straordinario il lavoro delle forze dell'ordine. L'amplificazione del messaggio provenuto dai media, che è essenziale, tant'è che è inserito come strumento di ricerca proprio nella legge che disciplina la scomparsa delle persone, ha funzionato tantissimo, unitamente però lo voglio dire alla ormai consolidata e straordinaria bravura dei carabinieri che hanno veramente restituito vita a questa famiglia. Grazie a tutti.